0 a 0 tra Montepaone e Africo un bell'Africo abbiamo qui mister Francesco Criaco complimenti un punto qui a Frabotto Mannis un punto importante sì sì noi ci abbiamo preparato in settimana proprio per questo per fare punti cercando di di non dare profondità al Montepaone sapendo che ci sono dei giocatori molto importanti lì davanti tipo stai io no devo dire che i ragazzi hanno risposto alla grande come come abbiamo lavorato in settimana loro hanno hanno si sono messe a disposizione oggi hanno fatto tutto quello che abbiamo che abbiamo preparato peccato che nel primo tempo magari ai punti abbiamo avuto qualche qualche occasione importante noi però va bene così come ha detto lei è un punto qua in questo campo molto difficile è un buon punto e alla luce dei risultati anche di oggi e di ieri la bagnare si è perso quali sono gli obiettivi dell'Africo no noi noi ci dobbiamo salvare il nostro il nostro vero obiettivo è quello di di valorizzare giovani infatti oggi abbiamo schierato dall'inizio cinque fuori quota questa è la nostra forza la dobbiamo ancora rafforzare ancora di più perché il nostro diciamo il futuro della società valorizzare i ragazzi del paese che fino adesso voglio dire stiamo stiamo valorizzando anche molto bene allora noi cogliamo subito l'occasione per fare gli auguri di buon anno a mister pisano uno zero a zero che forse sta un po' stretto al montepaone e non è bastata anche un grande salvatore procopio subentrato nel secondo tempo sì diciamo che la cosa che mi interessa è la prestazione quindi volevamo dare seguito alla brillante partita di domenica scorsa con un'altra prestazione di livello credo che l'abbiamo fatto giocare 95 minuti costantemente con il dominio del gioco con il possesso della palla certo abbiamo concesso qualche ripartenza normale perché quando si attacca in 7 8 è ovvio che le ripartenze ci sono anche perché l'Africa è una buonissima squadra che si chiude molto bene quindi era fondamentale secondo me riuscire a sbloccarla questa partita non ci siamo riusciti nonostante la grande mole di gioco ma sono contento della prestazione e allora obiettivi a questo punto il montepaone viaggia nella zona importante della classifica a cosa si pensa in questo momento si pensa a fare quello che abbiamo fatto finora noi ci siamo regalati un'ultima parte di campionato un girone di ritorno da primi posti per adesso e quindi quello che possiamo fare è continuare a fare quello che ci ha portato e che ce l'ha regalato questo modo di ragionare lo dobbiamo mantenere cioè partita dopo partita non possiamo assolutamente guardare troppo avanti perché non è nelle nostre corde dobbiamo concentrarci su ogni domenica sull'avversario di turno che sono sempre delle ottime squadre e se oggi era una ottima squadra l'Africo lo sarà altrettanto la stilesi domenica prossima quindi partite difficilissime dove non ci non ci possiamo assolutamente permettere di guardare oltre la domenica grazie a tutti